Sono stati ufficialmente dissequestrati i locali dell'asilo nido di Via Lucio Piccolo a Capodorlando, interessati dal crollo del soffitto il 12 dicembre scorso. I lavori inizieranno subito dopo Ferragosto e si conta di consegnare i locali in sicurezza già a partire da settembre. Ieri è stato dissequestrato l'asilo, quindi siamo contenti per noi, ma soprattutto per i bambini e per i genitori. Quindi è una notizia che abbiamo dato oggi, i lavori partiranno subito, subito per agosto faremo i lavori necessari in maniera che l'asilo sia pronto. È partito tutto e si è conclusa anche bene tutta la vicenda perché in realtà non ci sono altre problematiche all'interno della struttura. Quindi un altro passo avanti. Dopo il depuratore adesso anche l'asilo è nelle condizioni di poter essere messo nelle condizioni di operare il meglio possibile. E l'altra grande novità? Beh, poi è importante anche questo, un altro risultato positivo. Abbiamo avuto l'approvazione della richiesta del mutuo per poter pagare tutte le forniture inerenti, i servizi. Ricordiamoci questo, questo mutuo è per forniture di beni e servizi, per cui oggi stesso metteremo sul sito del Comune e anche sulla mia pagina Facebook l'elenco delle persone che verranno pagate. Così non ci sarà bisogno neanche di venire al Comune. Appena ci sarà fatto l'accredito, grazie alla disponibilità del personale dell'ufficio ragioneria che rinvierà le ferie, praticamente procederemo a fare tutti i pagamenti. Ricordiamoci che sono 10 milioni di euro che vengono immessi sul mercato finanziario e economico del territorio. Un'ulteriore notizia che voglio darvi, da giovedì inizieranno le persone che sono dotate di reddito di cittadinanza a fare le attività all'interno del Comune. Inizieremo con un progetto sulla spiaggia sul lungomare per il mantenimento del lungomare e un ulteriore gruppo farà invece dei lavori di decespugliamento e un terzo gruppo sarà al cimitero in maniera da poter continuare a sistemare il cimitero dove abbiamo già fatto parte della pavimentazione e continueremo nel tentativo di ultimare almeno i viali quelli che sono più importanti.